Monte Tondo, ore 9.24 giornata splendida Monte Tondo, è la via principale, noi abbiamo fatto il raccordo che viene sulla Ponteccio e vai Dai Paolo, qui a sinistra vedrai che vista che abbiamo, eccolo qua, dai un'occhiata a sinistra dai un'occhiata a sinistra E guarda che splendore, peccato che, ecco tutta la valata della Garfagnana, ecco, ecco là giù un biancardo, lo vedi? Insieme al dorso, corfigliano lo vedi? E vai Paolo Pettacolo! E' una grande, lì me sai! Eh, sei un temerario sei! A mele si è aperto oggi! Si è aperto già? Sì Eh, ho visto anche il cartello oggi, eh sì Sei un grande la vita Dai via su, coraggio, ciao! Cosa 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Torrentello. E' il torrentello. E' il torrentello. E' il torrentello. Go! Go! C'è il rischio di toccare con i pedali sui vertigli. Wow! 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 Ora ci siamo. Purtroppo! 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 Ecco! Purtroppo! 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 Sì, è bello andare a piedi, perché c'è un punto in cadale e qui c'è il polvo. Sì, è bello andare a piedi, perché c'è il polvo. Sì, è bello andare a piedi, perché c'è il polvo. Sì, è bello andare a piedi, perché c'è il polvo. No! 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 Grazie a tutti. 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 Dove ti ho portato? Grazie a tutti. Si fa un po' più duro qui. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.